Io ero attratto solamente dalla voce del giostraio. Pensate che questa voce mi è talmente entrata dentro che io questi me li sono immaginati quando fanno l'amore con la donna. Dai amore che si parte, dai. Prendi il codino, forza. Franco cosa ci fai lì? Sono in ferie. Ma tra 15 giorni torno, arrivo. La tipica ragazza fighetta. Sa tutti. Bergamasca spartana. Ma tutti mi chiamo Deborah? Ti pregate, pregate, pregate che non siano scadute. Sono entrato nel Guinness World Record per essere stato il primo calciatore da essere espulso prima di una partita. Giuseppe Conte. Perché questo è il tempo che ci vuole per prenotare una visita in Italia. Vittorio Feltri. Postano le foto da fighi su Instagram, poi si ingroppano le scimmie. Invece no, era dal tonico. Buonasera, sono il maestro Igenio Massare. Quindi Clarissa potrebbe essere sposata con un paio di persone. Ci prendono 300 grammi di salame di cinghiale, lo si trita, tutto? Sto no, sto no. In didascalia c'era scritto Mi avete buttato in mezzo a un branco di lupi e ne sono uscita a capobranco. L'apo è il cancio. Fossi molto contento di essere qui questa sera a Bergamo. Bergamo, sì. Bergamo, sì. Immaginate Vincenzo De Luca, l'avete sentito prima. Immaginate De Luca a letto, come potrebbe essere. Io me lo vedo così. Fammela toccare. Poi la guarda. Quanto è morbida questa mascherina FPP2. Immaginate Mario Giordano, Mario Giordano che fa l'amore. Potrebbe essere una cosa tipo A. Amore, dimmi qualcosa di sporco. E lui. Donato! Donato! Massimiliano Allegri io, mentre fa l'amore, me lo immagino così. Ma a un certo punto lei... Fallo! Oh, ma che fallo? Oh, non l'ho toccato nessuno io, eh! Andiamo a controllare il bar! Un bacio, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie.